Buongiorno a tutti amici miei, bentornati su Pausa Caffè, parliamo di gossip, di tv, di spettacolo e di piattaforme, perché come in questo caso parleremo di TikTok esattamente, sappiamo che ormai la creatività passa per ogni tipo di piattaforma, può essere Facebook, può essere YouTube, può essere come in questo caso TikTok, ma le piattaforme digitali oramai sono il futuro, il nostro futuro, e ovviamente anche quello delle nuove generazioni. Tra queste TikTok è appunto tra le più amate e in costante crescita, non soltanto fra i giovanissimi e anche tra gli adulti, tra gli adulti infatti ci sto anche io, lo ammetto, e tutti noi che troviamo il modo insomma di condividere consigli, idee, trend, chi lo fa per divertirsi, chi lo fa per lavoro, insomma stanno tutti lì, e comunque è una delle novità virali che c'è sulla piattaforma, che sono i dobloni, quindi siamo qui per spiegare cosa sono questi benedetti dobloni, chiamati anche doblons, e in una manciata di giorni si sono fatti conoscere, perché si sono fatti in strada, si sono a far parlare sempre più di sé. Ma a cosa sono questi dobloni e come si accumulano e a cosa servono? Come spiega Webbo, tutto è partito dalla sezione per te, sapete i per te, no? Quelli che vengono consigliati di più i video, in cui ha fatto capolino un simpatico micio nero con la zampa sollevata e in evidenza l'ha scritta doblons. In un primo momento c'è stata un attimo di sorpresa o di confusione, se così vogliamo dire, ma queste sono state le primissime reazioni scatenate dal trend che ha comunque incuriosito sempre più utenti che sono sempre più attenti. Sicuramente ne abbiamo già sentito parlare, perché originariamente i dobloni erano monete spagnole che sono esistite davvero nella storia, utilizzate nel XIX secolo e in uso soprattutto fra i pirati e i corsari. Insomma, venivano utilizzati nel periodo in cui si viaggiava spesso in mare. Non a caso quando si parla di dobloni si pensa generalmente a ricchi tesori e a forzieri stracolmi di monete d'oro. Proprio questo è il riferimento anche nel caso del trend su TikTok in cui un gatto nero rivela all'utente di aver perso o di aver vinto una somma in dobloni. In base alla cifra quindi ogni utente è in grado di determinare l'andamento dei doblons sull'intera piattaforma come avviene nel mercato reale. Ovviamente si tratta di denaro virtuale, un meme bizzarro che non comporta nessun guadagno concreto. E per arricchirsi e guadagnare dobloni da scambiare con gli altri utenti occorre trovare il gatto dio doblone. Eh eh eh, la divinità dell'oro. Bisogna quindi scorrere tra i per te fino a incappare in un video che fa guadagnare monete gratuite secondo un meccanismo assolutamente casuale. Una volta trovate le monete si possono archiviare come se si depositassero in banca. Sarà allora sufficiente aggiornare una nota sul telefono per tenere traccia del proprio gruzzoletto con cui interagire anche con gli altri tiktoker. Lo so che è una cosa per molti ma non per tutti, però io vi devo informare. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto di questo video. Noi ci sentiremo alla prossima. Mi raccomando, Max vi aspetta intanto. Buona giornata a tutti. Buona giornata.